we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide della settimana numero 10 di fortnite vi ho fatto vedere poco fa la posizione dello standardo segreto c'è una piccola rettifica il camion è quello dalla parte opposta lo leggete comunque nei commenti ma vediamo un'altra missione che è quella che ci dice di trovare il punto indicato dalla mappa del tesoro a crocevia del ciarpame vi ricordo ragazzi che dovete per forza prima raggiungere proprio crocevia per ottenere quindi la possibilità di fare la sfida ed ecco qua ragazzi avete capito benissimo dove siamo proprio dietro a questi bancali ci sarà la mappa del tesoro ci verrà data la possibilità di tenere premuto il il tasto che utilizziamo per raccogliere le armi e quindi sbloccare la fase numero 1 della sfida vi voglio comunque mostrare ragazzi eccola qua la mappa la capiamo davvero in una maniera inequivocabile c'è il coltello e la forchetta per chi non avesse capito dove è indicato il punto vi faccio vedere io direttamente dalla mappa di fortnite ed è all'ande letali esattamente in questo angolo ragazzi dove c'è proprio l'angolino del coltello beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo fra poco in live ciao